Riminalo all'asvelta. Che fretta c'è. Colpa degli sbirri. Meglio non farsi trovare dopo un lavoro del genere, capito? Non restare indietro. Primo mezzo da raid. Per così dire. Non aver paura di maltrattarlo. Fregatene dei nocci e del resto. Resisterà. Ora sistema quell'idiota. Non restare indietro. Non restare indietro. Non restare indietro. Fagli vedere chi sei